Musica Musica Bene, partiamo Io seleziono un programma Che si chiama Relax Ride Si chiama così Musica Facciamo girare le gambe Musica 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 C'è il Piero che si sta lamentando Piero Non riesce a sentire Dobbiamo abbassare Il Piero vorrebbe abbassare La musica Perché non riesce a sentire la stanza Musica No, no Ma non è Relax questa lezione È quella che ho scelto io qui Cento federate al minuto Musica Al di là Allora Da casa dicono Che hanno rotto un pedale Nell'eseguire le mie lezioni Però al di là Che rompere un pedale È una grande soddisfazione Però io direi Che si dovrebbe segnalare La casa produttrice Dicendo che non va bene Per le mie lezioni Che bisogna fare più robuste Ste vici Musica Poi mica sarà colpa mia Se siete troppo forti Musica No Ascoltiamo ancora Il spaccio di resistenza Poca poca Musica 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 100 pedale È venuto Musica 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 5 minuti ancora e poi partiamo rispiego no? facciamo rispiegare chi? facciamo rispiegare l'omara bassa la testa tra che l'ultima fila si è nascosta questa sera non è vero si è nascosti le pedalate diminuiscono 90 al minuto e aggiungiamo ancora un fricolo di resistenza l'unico che si è messo in bella vista è il Gabriele perché è nuovo e quindi non è un complimento è la verità allora siete in 5 l'Alessandro è dietro il Piero esattamente dietro il Piero l'omar va lì va là va lì va là il Donato è dietro la Luisa completamente la Joe è completamente dietro l'Alessia ma l'unico che vedo bene è lui non è un complimento è verità tutta sta gelosia di questi uomini ciao Isabella l'Alessandro è dietro l'Alessandro Ancora un concetto Poco poco Siamo più o meno Fatica da 1.17 Più o meno 90 per la nota al minuto Siamo più o meno Intanto vi dico cosa vorrei farvi fare in quei 4 minuti No, non ve lo dico Perché non si può Non si può È la mia idea Ma non va bene Invece no Laura Io il grafico lo rispetto Lo rispetto completamente Perché è quello che vi voglio far fare Rispecchia completamente questo grafico Perché quei 4 minuti sarebbero in zona 3 Il problema è come Vorrei farveli fare Volete provare a indominare? Se indominate facciamo Aggiungo ancora un gozzo di resistenza Siete pronti? Siete pronti? Allora pedalate 80 al minuto Fatica Tantissima Chiudo 5 minuti 5 minuti Niente on off Il grafico è quello che vedevate in miniatura all'inizio Non cambia È solo che la palestra Quel grafico Non l'aveva visto prima Quindi 80 pedalate al minuto Fatica Da 1 e 10 9 Come Come Porto su lega vente Due minuti sono praticamente andati, ne abbiamo tre, ritmo. Due minuti sono praticamente andati, ne abbiamo tre, ritmo. Avete male alle gambe? Non è vero! Avete appena iniziato? Come potete avere male tanto le gambe? Ah, da Mercedes! Sta arrivando il fiatone, ma non va bene che rispondeteci sempre a tutto, deve essere effettivo. Rossella ha il fiatone? Lei fa parte delle nuove, ma non so perché mi dà l'idea che menta. L'avete istruita in precedenza? L'avete istruita! mantenendo la velocità senza rallenziare Siete pronti per quel cornino? No, i piedi! No, i piedi! Si chiude! Mantengo il tempo! A tutto dono forza nella piegarata a tutto il tempo! Resisto! E' quasi un peccato togliere un goccio di resistenza, è quasi un peccato, come va? Allora Manteniamo il ritmo Asciughiamo il sudore E beviamo Allora, facciamo così La mia malsana idea la metto da parte, raccanziono Mi spiace un po', eh? E facciamo così Visto che so che non apprezzate tutta l'ora seduti Ci alziamo un po', però attenzione alla frequenza cardiaca Se vedete che schiste in alto, vi sedete D'accordo? Salgo Quindi poca resistenza sui pedali Leggera, leggera la pedalata Gagliano fa fatichissima Fai fatica, vero? Eh! Resto! Resto! Organizzeremo il salottino lì all'aperto per i calorosi Butta il peso sui pedali Da una parte e dall'altra Perché vuoi? Sempre uguale Ottanta Guarda, tu sei così Fermissimo Così stai pedalando Qua è una fatica in teglia Butta il peso A casa vorrebbero sapere la mia idea per il recupero Quella che non si può fare Niente Muccia Non dico nulla Ma là dietro Cosa fate seduti? Ma ai vecchi la frequenza non dovrebbe ascoltare Invece si alza anche i vecchi Vabbè Mi siedo E mi preparo Siete pronti? Si chiude Seconda Quattro minuti Ottanta Pedalato il minuto Zona 5 5 5 Regolate la resistenza Ritmo con queste gambe Ma Omar A quanto era sceglita la frequenza cardiaca Andava bene Andava bene Vabbè Non devo lasciare più libertà di scelta Se vuoi decidere io è morta lì E se non scende pace amen La teniamo alta Meglio 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 Si si allena di più Due minuti I uomini Fatica Ora Quanta No Allora Basta La Rossella Non le chiedo più niente Non le chiedo più niente Basta Tu sei già passata nei vecchi Malgrado la giovane età È già vecchia Basta Dite che è stata la vicinanza col Piero? È passata una lezione? Ti hai già insegnato tutto? Alessia Alessia Ora Fatica Quanta Brava No no ma lei è rossa Nove ma è rossa Hai sintomi del nove Tu i sintomi del nove non ce li hai Laura No Anche lei i sintomi del nove non ce li ha Gagliano I sintomi degli undici non ce li hai Potrebbe essere quasi un nove Due Ma perché è caldo? Più Ecco Più che niente è un otto Daria Un minuto ancora 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 un grosso. Siete pronti per il cornino? No in piedi, seduti. Si chiude, tanto. Non si rallenta, si mantiene alla stessa velocità, solo si fa più fatica. No, 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 no. Asciugo il sudore, mantengo il ritmo, tolgo la resistenza, leggeri, leggeri, bevo. Come va? Siete pronti per la stessa velocità, leggeri, 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 leggeri. No, 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 no. Siete pronti per la stessa velocità, leggeri, leggeri, leggeri. Ok, quando ve la sentite, i piedi sui pedali, leggeri, leggeri, leggeri. Cercate di non fare troppo fatica. Se la frequenza cardiaca si alza troppo, vi sedete. Rossella, un pochettino più dietro col bacino. Ok, rivolati più dietro con le braccia. Brava! Due minuti ancora. Eh no, prima mi sono stupita perché noi eravamo giù, lui era già su. Adesso alzo lo sguardo e sa che è giù. Leggeri, leggeri, oh che bella! E' talmente bella che io quel minutino che manca... Chi vuole finisce il minuto di recupero perché ne manca solo uno. Chi invece se la sente inizia a chiudere e parte. Chi vuole finisce il minuto di vivere. Il minuto è finito, quindi anche chi non era partito può partire. Il minuto è assistente a resistenza, portando la proposta cardiaca al 90%, zona 5, fatica da 1 a 10, 9. Quattro minuti ancora! Regolate la resistenza, non risparmiatevi! è Piero è un disastro forza resisto non perdo il ritmo fatica da 1, 10, 9 agli spedere resistenza chiaramente non si rallenta perché mancano due minuti più il cornetto com'è? tutto bene? bruciano le gambe? avete il fiatone? state sudando? i vetri non sono appannati però un minuto ancora pronti per il cornino? sicuri? ci stiamo aggiungo tanto non rallento aumento l'apporto sui pedali l'apporto siamo quasi pochi secondi sentite che aria che arriva qua super super svolgo asciugo il sudore pego tutto bene? da qui schiena a terra bacino lo mantengo a terra in arco la schiena mantengo la posizione mantengo la posizione e scendo e scendo forza sulle braccia in arco ancora a terra l'ultima volta e rimango qua e rimango qua porto il tallone al gluteo e alzo il ginocchio scendo e cambio qui salgo scendo 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 rilasso ancora con la forza delle braccia allungo e quattro zampe da qui mi alzo appoggio i talloni a terra e spingo indietro sentite tirare? troppo troppo? va bene si tira troppo tanto i muscoli sono belli caldi ok ritorno quattro zampe piego piego e mi siedo mento il pezzo allungo tutta la colonna piano piano stendo le ginocchia mani a terra rilasso la colonna piego le ginocchia drosolo la colonna pian piano giro le spalle e respiro giù ancora uno giù e fuori tutto giù bravi